Ribaltone in casa Inter nel gruppo dei portieri, da una parte Andrè Onana che in questi minuti e in maniera comunque in attesa annuncia l'addio ufficiale alla nazionale del Camerun, dall'altra Samir Andanovic che sembra sempre più intenzionato a non rinnovare il contratto con l'Inter e forse addirittura a dare l'addio al calcio giocato, e poi c'è anche un Cordaz se vogliamo che è ancora in scadenza di contratto, si sta ancora riflettendo rispetto alla possibilità di rinnovarglielo e quindi l'Inter in questo momento si trova con qualche notizia che spunta per quanto riguarda i suoi portieri. Ne dobbiamo parlare all'interno di questo contenuto dove, non me ne voglio a Cordaz, ma affronteremo soprattutto il tema relativo ai primi due, e poi in coda vi dico anche una novità sul fronte screener, visto che si tratta comunque di questioni di questi giorni molto calde con cui completare questo contenuto. Ben ritrovati e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito fin da subito a lasciare un mi piace al contenuto, un'iscrizione al canale e andiamo subito all'interno delle notizie con il nostro consueto format, con le top news del momento. Voglio partire ovviamente dalle notizie effettive e concrete, quelle che riguardano André Onana. Per chi ci segue su YouTube condivido lo schermo con il tweet che in mattinata Onana ha pubblicato sui suoi profili, con questa grafica, con una sorta di comunicato, nel quale vi traduco molto velocemente la parte più importante. Onana scrive, ogni storia, per quanto bella possa essere, arriva ad una fine, e la mia con la nazionale del Camerun è finita. I giocatori e i nomi vanno e vengono, ma il Camerun viene prima di ogni calciatore. Il Camerun resta eterno e così farà anche il mio amore per questi colori e per i nostri tifosi. Poi ribadisce appunto la volontà di continuare a tifare per la nazionale, però sostanzialmente la notizia, ripeto, comunque piuttosto in attesa, al di là di quello che è accaduto al Mondiale e su cui fra poco torniamo, è che Onana, all'età di 26 anni, decide di lasciare il Camerun. Io mi permetto di dire una cosa. Ovviamente nessuno di noi è nella testa di Onana, quindi non possiamo sapere cosa lo ha spinto a questa decisione. Avendo 26 anni e considerato che a volte i portieri nel calcio giocano potenzialmente fino ai 40, faccio fatica a pensare che questa decisione sia sicuramente, diciamo, rimarrà tale per tutti i prossimi potenziali 10-15 anni che Onana passerà sui campi. È probabile, o comunque è possibile, diciamo così, che in caso di cambio del commissario tecnico da qui in avanti del Camerun magari possa anche rientrare la scelta del nostro portiere. Va però detto che a questo punto, nonostante non siano ancora chiarissime al 100% le motivazioni che hanno portato all'allontanamento di Onana appunto dal Mondiale in Qatar, evidentemente è successo qualcosa di serio. I rapporti con il CT Rigobertsong e forse anche con lo stesso Samuel Eto'o, presidente della Federcalcio camerunense da circa un anno, sono effettivamente stati messi a dura prova, diciamo così. Quindi è difficile sapere, ripeto, cosa accadrà da qui in avanti, non escludo che poi prima o poi Onana possa scegliere di tornare, però è una notizia molto importante anche perché, come vi abbiamo detto a lungo, Onana, oltre ad essere uno dei giocatori più forti del Camerun, era anche uno dei leader dal punto di vista carismatico e quindi il fatto che l'ascina nazionale ha comunque un suo peso. L'Inter, come vi dicevo prima, vado al secondo tema, è alla ricerca e comunque sta monitorando diversi profili per la porta. Qualcuno in queste ore ha approfittato delle vicende legate ad Onana per buttare lì il fatto che forse il portiere che l'Inter andrà a prendere potrebbe essere anche il titolare nel caso si decida di cedere a Onana. Ora, Onana è arrivato a parametro zero, quindi un eventuale addio sul mercato dipenderà da una importante offerta che potrebbe arrivare. Non credo che queste vicende con la sua nazionale ne possano, diciamo, possono influenzare quella che è la sua storia con l'Inter. Quindi rimaniamo al fatto che per il momento l'Inter cerca un secondo. portiere e che secondo, diciamo, non cambi, perché tra i vari nomi che si sono fatti, uno dei più prestigiosi, che è quello di Jan Sommer, portiere svizzero, è uno dei più complicati, proprio perché Sommer è, nonostante l'età, ancora un portiere di primo livello, titolare della Svizzera, titolare del Borussia Mönchengladbach, e quindi è difficile pensare che venga all'Inter, Sommer accetti di fare il secondo di Onana senza alcuna possibilità di rimaltare le gerarchie. E sappiamo che Inzaghi, lo ha detto lui stesso, preferisce per la porta avere delle gerarchie ben definite. Quindi Sommer, tendo a scartarlo, ma ne avevamo parlato anche qualche settimana fa, e già allora vi avevamo detto, è un po' complicato, visto che è un portiere ancora importante. Un altro nome che è emerso in queste ore è quello di Alessio Cragno, che vi ricorderete l'Inter seguiva fin da prima di prendere Onana. Cragno alla fine è finito al Monza in un'operazione di prestito per 400 mila euro, con un diritto di riscatto che diventa obbligo nel caso in cui il Monza si salvi in questa stagione in Serie A. E l'obbligo di riscatto è fissato a 3 milioni e 6, quindi l'operazione complessiva sarebbe di circa 4 milioni di euro. Il problema è che Cragno non ha mai giocato, perché nel Monza finora non ha accumulato presenza in Serie A, ne ha accumulate solo due in Coppa Italia. 4 milioni spesi eventualmente dal Monza non sarebbero una cifra enorme per un portiere di buone prospettive, che però comunque non è più giovanissimo. Non credo che per il momento l'Inter lo valuti tra le priorità. Sono emersi invece altri due nomi, e io in particolare vi voglio parlare di uno di questi due, che vi dico per secondo. Il primo nome è quello di Neto, ex portiere di Juventus e Fiorentina, probabilmente ve lo ricorderete, brasiliano, che nel frattempo è arrivato a 33 anni e mezzo di età, quindi non è più giovanissimo, ma soprattutto gioca in Premier League nel Bournemouth e ha un ingaggio da circa 3 milioni e mezzo, assolutamente incompatibile con il posto da riserva che avrebbe nell'Inter. Quindi nonostante vada in scadenza a giugno, tenderei a metterlo in secondo piano. Un profilo che invece potrebbe effettivamente essere, approfondito è quello di Agustin Rossi, portiere argentino, con passaporto italiano, alto 1 metro e 93 centimetri, nel frattempo per chi ci segue da YouTube vi condivido la scheda Transfermarkt. Anche lui va in scadenza di contratto a giugno con il Boca Juniors, classe 95, quindi non è ancora ad un'età più che accettabile, l'ingaggio non è così proibitivo. Vi do anche qualche numero che ha accumulato Rossi nella sua, diciamo, storia in Argentina. Ha vinto tre Superliga Argentina, due Coppa di Liga Professionale e una Coppa Argentina e nella Superliga Argentina, in 129 partite, ha messo insieme 51 clean sheets. Quindi i numeri mi sembrano comunque più che buoni e potrebbe essere un profilo interessante come secondo nel caso appunto in cui Andanovic non dovesse rinnovare il proprio contratto. Non escludo che da qui in avanti escano anche altri nomi dal mercato, perché comunque l'Inter monitor ha diversi giocatori in scadenza, come vedete. Non ha una particolare fretta per il momento di andare a bloccare qualcuno perché si parla di giocatori interessanti ma non con la fila, diciamo così, come può essere per esempio un Marcus Duram che andrà in scadenza. Vediamo quello che accadrà. L'Inter comunque la prende con comodo però appunto le novità sono queste. Archiviando il capitolo portiere vi dicevo voglio chiudere con il tema screener perché un po' mi ha fatto anche sorridere quello che sta accadendo in queste ore perché praticamente ogni giorno c'è il giorno in cui c'è ottimismo e il giorno dopo c'è pessimismo. Poi torna l'ottimismo e poi torna il pessimismo. Decidiamoci. Cioè teniamo una linea o si è pessimisti o si è ottimisti. Non si può cambiare ogni giorno. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore era il turno del pessimismo. Questa mattina torna l'ottimismo e la Gazzetta dello Sport in particolare scrive che nella giornata di ieri ci sono stati dei contatti nuovi fra l'Inter e i procuratori di Screener. Un contatto che non è ancora stato quello decisivo per concludere nel bene o nel male questa trattativa ma che ha portato un nuovo ottimismo rispetto alla possibilità di un rinnovo di Screener con un nuovo appuntamento previsto dopo le feste al più tardi verso metà gennaio. Va bene, nel senso l'Inter l'offerta l'ha fatta e lo sappiamo e ha già fatto capire più e più volte che da qui non ci si muove perché è già il tetto massimo raggiungibile. Quindi non capisco la necessità di continui nuovi incontri nel momento in cui la palla è in mano a Screener e manca solo che dica sì o che dica no. In ogni caso registriamo questo aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che il silenzio di Screener in queste settimane non sarebbe da interpretare in chiave negativa nell'ottica di ha già deciso di andare via ma come diciamo un silenzio di riflessione. Cioè Screener sta riflettendo la proposta dell'Inter comunque la ritiene importante ed in effetti lo è e quindi sta semplicemente pensando al da farsi. È assolutamente una diciamo secondo me uno scenario comprensibile perché Screener comunque è arrivato ad un'età nella quale firmando questo rinnovo per 4-5 anni si diceva sostanzialmente non dico sia l'ultimo contratto della sua carriera ma quasi perché poi scavallerebbe non poco i 30 anni al termine di questi 4-5 di rinnovo. Quindi la decisione che ha adesso davanti Screener è o rinnovo con l'Inter a queste cifre e mi leggo a quello che è il mio ambiente da ormai diversi anni a cui sono molto legato con i tifosi che mi vogliono bene e magari ho anche prospettive di fascia da capitano oppure scelgo di andare verso nuovi orizzonti molto probabilmente più importanti sia in termini economici che anche di prospettive di vittorie obiettivamente perché firmando col PSG di fatto vai a giocare insieme a Messi a Mbappé e tutti gli altri campioni giochi per la Champions ogni anno guadagni molto di più e quindi dal mio punto di vista il fatto che Screener stia riflettendo se firmare con l'Inter o se valutare un addio per come la vedo io non perde questa cosa non gli fa perdere diciamo importanza rispetto al legame che ha con l'Inter la trovo una cosa comprensibile sicuramente mi dispiacerebbe tanto se andasse via e riflettendo invece lato Inter potrebbe essere un serio problema in termini economici perdere un giocatore come Screener a parametro zero e non tramite una cessione per 50 milioni quelli che sono però per come la vedo io e so che in molti non sono d'accordo se lui alla fine decidesse di andare via io comunque tutto sommato lo capirei e non riuscirei a fargliene una colpa a definirlo un traditore ma di questo chiaramente parleremo più avanti nel caso in cui dovesse verificarsi questa eventualità perché poi magari va a finire che Screener rinnova e abbiamo parlato del nulla per settimane comunque le novità sono queste nuovo contatto in queste ore probabile nuovo aggiornamento nei prossimi giorni ottimismo per qualcuni pessimismo per altri io resto un po' diciamo nel mezzo ma orientato leggermente più verso l'ottimismo ma non troppo mi lascio una porticina aperta per entrambe le cose queste erano le novità sul tema portiere con la notizia di Onana i vari nomi per il dopo Andanovic in caso di non rinnovo e la questione Screener fatemi sapere nei commenti come la vedete sul tema Screener ma anche sul tema Onana e Andanovic vi ricordo poi il club di Passione Inter ovviamente www.passioneinter.club ed infine per chi ci segue in podcast lo lascio in descrizione mentre se mi segui su YouTube qui alla mia destra trovi un contenuto con diversi retroscena emersi direttamente dalla sede dell'Inter Ciao